bene amici di andro tar eccoci alle prese di una nuova recensione oggi vi parleremo di hub usb tecniche ce ne propone uno eccolo qua ce l'abbiamo qua con noi tre porte usb 3.0 un'entrata l'anne che in occhio connettore type c ma questo vuol dire che è compatibile soltanto con me con computer dispositivi che hanno soltanto questo tipo di attacco assolutamente no quindi vediamo come si comporta inoltre come adattarlo a tutti i computer bene ragazzi eccoci qua con il nostro hub usb di casa technet iniziamo subito a parlare della confezione allora la confezione sarà del tutto anonima quindi una confezione abbastanza anonima sempre senza troppe informazioni e di cartoncino riciclato una cosa che ci fa sempre più piacere vedere aziende che adottano questo materiale sul fronte ci troveremo il logo dell'azienda il nome di quello che ci troveremo all'interno e nient'altro insomma è una come vi ho già detto una confezione del tutto anonima andiamo ad aprire la scatola e ci troveremo il nostro hub usb eccolo qua è la garanzia il cartoncino della garanzia di 24 mesi bene mettiamo da parte tutto ciò che non serve andiamo a parlare subito dell'hub allora eccolo qua allora incominciamo a parlare innanzitutto del connettore allora il connettore sarà il classico connettore typesi ovvero il connettore anzi il nuovissimo connettore typesi che sarebbe il nuovo connettore che è non avverso ovvero quello che se si attacca in un verso o in un altro lui comunque attacca collega e lo spessore del cavo è veramente impressionante appunto che favorirà il passaggio rapido dei dati delle quei di correnti di tutto c'è che c'è da trasferire tra computer e hub o dispositivi e hub qua ci troveremo questo supporto in gomma che servirà per evitare strapponi o movimenti bruschi durante il tempo quindi per non farlo sfilare e su questa parte ci troveremo questa plastica lucida di colore bianco dove ci troveremo l'entrata l'anne questi due buchi sono le luci dell'entrata l'anne ovvero quella arancione quella gialla quella classica e sulla parte superiore ci troveremo il logo technet le tre porte usb 3.0 e il led di colore bianco che servirà a per sapere quando lab è in funzione sulla parte posteriore invece ci troveremo le informazioni per conoscere il prodotto e il corpo del lab è in parzialmente in alluminio parzialmente perché queste due parti sono in plastica regalo una sensazione di leggerezza pesa circa 60 grammi quindi è trasportabile trasportarlo non è un problema e l'ho testato posso dire che non surriscaldi dati vengono e trasmesse una maniera del tutto veloce abbastanza normale nemmeno ci si accorge quasi quasi di avere lab è come se avessimo collegato ad esempio un hard disk direttamente al computer non ci accorgiamo nemmeno che l'abbiamo collegato qua grazie alla velocità che non cambia e vi ho parlato appunto di come trasferire appunto di come adattare questo connettore taxi a tutti i computer bene sono riuscito ad adattarlo grazie a questo connettore l'ho ritirato su internet che praticamente mi consente di attaccare il cavo type c da questa parte e poi mi esce usb 3.0 quindi sono riuscito ad adattarlo in tutta tranquillità mi è costato un occhio della testa mi è costato circa 9 99 quindi molto molto costoso però devo dire che si è rivelato molto utile non solo per lab ma anche per altri dispositivi che mi ritrovo nell'armadio che ogni volta purtroppo non posso utilizzare perché magari non dispongo appunto di un dispositivo type si con questa entrata grazie a questo invece sono riuscito ad adattarlo quindi posso dire che è stata una spesa utile in un certo senso bene avevo parlato poco pochi secondi fa di come si è come di come si comporta nel trasferimento dei dati di e tutto il resto andiamo a vedere un po meglio che adesso praticamente lo collegheremo al nostro computer vi farò vedere come funzionano le tre porte usb e come funziona la presa LAN come insomma trasferisce i dati vediamolo un po all'azione bene amici eccoci qua abbiamo appena collegato il nostro hub usb al nostro computer attraverso il connettore che vi dicevo prima appunto ecco qua come ora lo vedremo acceso che è un po meglio allora qua ci troveremo appunto il led eccolo qua inquadrato contro luce eccolo qua il led bianco che sta a indicare il funzionamento del lab qui le nostre tre porte usb non si illumineranno niente di niente e qua ci troveremo appunto ho collegato anche una presa l'anne alla sua porta le luci verdi e arancioni insomma le classiche luci delle prese l'anne che stanno a indicare il trasferimento e il ricevimento dei dati bene io l'ho appena collegato come ho già detto al mio computer vediamo un po grazie a un programma se esattamente riesciamo ad ottenere lo stesso risultato di quando insomma la presa l'anne dovrebbe essere collegata direttamente al computer vediamo un po iniziamo il test attendiamo qualche secondino aspettiamo allora da me il download non è sempre stato ottimo comunque anche quando comunque era collegato direttamente al computer infatti abbiamo un download per il momento una velocità di download di 6 megabyte abbastanza bassa una velocità di upload che sicuramente sarà ancora peggio vediamo un po allora velocità di download manco un megabyte bene diciamo che è un risultato piuttosto normale io l'avevo testato comunque già prima senza presa l'anne e senza scusatemi attaccato direttamente all'hub e perché normalmente ce l'ho collegato così al mio computer devo dire che la velocità resta quasi invariata forse un pochino diminuita ma comunque siamo la un po cambiare una cosina di niente non di più né di meno quindi possiamo dire che il test dell'anno della dell'entrata l'anne piuttosto superato riesce a trasferire i dati in maniera normale come come se fosse praticamente attaccato direttamente alla presa normale bene vi volevo parlare un po di queste tre porte usb andiamo le a vedere subito allora ci collegheremo il mio my band 2 che ha bisogno di essere ricaricato allora così ne approfitto per dargli qualche minuto di carica eccolo quasi appena acceso sta caricando come possiamo vedere e inoltre ci collegheremo anche un telefono un nostro telefonino che a breve recensiremo lo attaccheremo sempre ecco qua come possiamo vedere sto attaccando il tutto questo è il telefono che a breve recensiremo e ci colleghiamo anche il nostro telefono eccolo qua e sembra essere partito anche esso benissimo allora come possiamo vedere è tutto partito e devo dire che l'avevo già provato tempo fa non surriscalda la carica comunque dei dispositivi è piuttosto normale quindi non cambiano non resta invariata comunque e finora mi sono trovato abbastanza bene anche comunque perché ho provato attraverso un un hard disk che ha trasferito i dati dal computer al all'hard disk attraverso sempre l'hub devo dire che la velocità comunque non cambia resta sempre la stessa quindi devo dire che è realmente si è rivelato un prodotto veramente utile quindi devo dire che è veramente ottimo vi faccio vedere appunto che sta caricando l'ho acceso eccolo qua so se riuscite a inquadrare vediamo se riesco a inquadrarlo eccolo qua bene come abbiamo visto è veramente ottimo come prodotto lo consiglio il prezzo del connettore non è il massimo come vi avevo già detto perché è un po' troppo elevato costo un occhio della testa però alla fine ne vale la pena perché riusciremo ad adattarlo ad un computer mentre il prezzo invece dell'hub si aggira intorno ai 20 euro circa una cosa del genere quindi 19 99 se non sbaglio comunque va sono soldi bei spesi comunque anche perché il cavo come vi ho già detto abbastanza resistente trasferisce i dati in una maniera abbastanza normale riesce anche a trasferire insomma corrente in maniera del tutto normale il trasferimento attraverso la connessione LAN avviene in maniera normale quindi possiamo dire che ha superato la prova bene io adesso vi lascio alla recensione scritta iscrivetevi al canale di youtube per restare sempre aggiornati con le nostre novità sul mondo android e per androidare è tutto adriano golisano